Ciao a tutti ragazzi, sono Gabino90, oggi torniamo su OutTennis 2 per il terzo episodio e di conseguenza il terzo turno di questa Sydney Championship Berrettini in campo contro Mordvinov, l'islandese. Tutto è pronto prima di andare in campo, vi ricordo cari amici di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto per favore di mettere un like al video se vi è piaciuto e di attivare la campanellina perché gli episodi con OutTennis non finiscono qua detto questo, detto ciò, vi aspetta in campo per la sfida del terzo turno, buona visione. Si parte per questa prima partita andiamo al servizio prima noi Mordvinov ha deciso di ricevere in questo primo match Mamma mia, cosa ha preso Matteo Bravo Bello questo rovescio Uno scambio infinito Tra l'islandese e l'azzurro Bello, che punto che ha fatto 15-0 per Mordvinov Dopo uno scambio infinito Tra i due Ci prova qua Berrettini con rovescio Per il 15 pari Bravo Matteo, forza Questa Si preannuncia una bellissima gara Tra i due Nooo, non sono andato Sono andato dall'altra parte Ma perché? Out out 30 pari Torniamo subito in pareggio In parità Questo primo match Bello Uh Ancora Berrettini Eh, stavolta è stato bravo lui 40-30 Per l'islandese Bello Da che non ci arriva C'è arrivato Va fuori, va fuori Out 40 pari Parità E va a sbagliare In ricezione Mordvinovo Match point per noi Out 1-0 Berrettini Questo primo match Bravo Matteo Berrettini 15-0 Parte bene L'Azzurro Ancora errore Doppio fallo Per due volte consecutive 30-0 Per noi Cari amici Mordvinov In affanno Bravo Berrettini Mamma mia Eh, sto giro fa No, non ce la fa Ancora Eh, stavolta va Dovevo fare il pallonetto Non l'ho fatto 30-15 L'islandese Torna in partita Molti errori Bravo Auto Per un soffio 40-15 Siamo vicini Al 2-0 Cari amici Match point Per noi No, non l'ha presa Non me l'ha presa Matteo 40-30 Occhio Perché l'islandese È lì vicino Alla parità Bello Out Out Però Out Mamma mia Mi sembrava dentro Invece no 2-0 Per noi Bravo Bravo Bello rovescio Out 15-0 Matteo Berrettini L'azzurro Bola In questa partita Stiamo giocando Veramente bene Bello Bello questo rovescio Uh Troppo Out Ancora out 30-0 Per noi Ha chiamato la sfera Mordredinova All'albitro Ma Confermano Che la pallina Era uscita Bello Matteo Berrettini 40-0 L'islandese È in affanno Dobbiamo approfittare Eccolo Vai lì Va a chiudere Questo match point 3-0 Berrettini Bravo Mamma mia La stava prendendo 15-0 Per noi Eccolo lì Matteo Berrettini 30-0 Per l'azzurro Colpi vincenti 6 per noi 5 per l'islandese Che è veramente In affanno Out 40-0 Match point Per Matteo Berrettini Va la battuta Mordredinova Nooo Non me l'ha presa 40-15 Ci prova a tornare in partita Mordredinova Bello Rovescio 1-0 Per noi Questa è buona E' buona No l'ha presa Però non riesce L'islandese A tenerla in gioco Questa pallina 15-0 Per noi Ah Bruttissima Questa auto Primo errore Di Matteo Berrettini 15-0 Pari Aia 30-15 Out Out Sbaglia anche il nostro avversario Tanti errori per lui 30 pari Nooo Bruttissima Questa pallina Giocata così 40-30 Per il nostro avversario Che prova a vincere Un match Un set Bello Prova a arrivarci Berrettini Rovescio Niente Out Ci è andata bene Perché non ci sarei mai arrivato 40 pari Ero in controtempo Parità Out Match point Per noi Ero in controtempo Out 2-0 Per il nostro azzurro Questa è l'ultima per noi Se andiamo sul 3-0 Finirà qua Molti errori Molti out Molti rovesci Sbagliati Per il nostro avversario Mordino Era partito bene Il primo set E ce lo fa Bel rovescio Bel rovescio 15 pari Poi dopo si è lasciato parecchio andare Il nostro avversario Non è riuscito a metterci Veramente in difficoltà Ma siamo Solo al terzo turno Amici Le difficoltà arriveranno Per il nostro azzurro Ma Noi non molliamo Ancora out Per Mordino 15 pari Anzi scusatemi 30-15 Per noi Dai Matteo Andiamola a chiudere subito Vai lì 40-15 Match point Per Matteo Berrettini Che è pronto Ad andare Al quarto turno Fallo per il nostro avversario Attenzione Dentro No Sembrava dentro Invece 40-15 Aveva toccato la linea Invece no Doppio fallo Finisce qua No Ancora si gioca Non ho ben capito Cosa sia successo Sinceramente Non gli ha dato punto Vai vai Tenisce qua Out ancora Per Mordinov Matteo Berrettini Va a vincere questa gara E andiamo ad approdare Al quarto turno Di questa Sydney Championship Quadro completo Dei quarti di finale Ci vede impegnati Contro il tedesco Simon Quindi dal prossimo episodio Andremo a giocare Il quarto di finale Gabino Domanta Vi dà appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti